Che cosa facciamo dopo che abbiamo isolato gli eventi? Io di solito quando ho un attore col quale sto lavorando su una scena, dopo aver capito come la struttura sta in piedi, comincio a avere una zona di maggior libertà, cioè cosa ti senti nel cuore, cosa ti sembra di questo personaggio, cosa ti sembra di questa atmosfera, così liberamente, no? Come dire, rassicurato che una griglia di eventi fondamentali che mi danno la strada comunque li ho isolati. E lì viene fuori magari un po' di tutto, ma secondo me lei è un po' così, secondo me lui è un po' cosà, eccetera, un po' come nella vita, no? Conosci una persona, ti dà subito una prima sensazione. Di solito noi nella vita giustamente ci raccomandiamo, poi magari non lo facciamo tanto, però ci raccomandiamo di non giudicare. E quindi questo vale anche per i personaggi, perché noi vogliamo che i personaggi abbiano la stessa dignità delle persone. Perché questo? Perché se non siamo noi che lavoriamo per dargli vita, a credere che siano esattamente come persone umane, tantomeno potrà farlo il pubblico. Non c'è paura a dire questo, che un personaggio vale come una persona. Perché? Perché vale l'incontro con una persona che sarà una persona vera. Cioè attraverso quel personaggio, le persone vere che sono quelle del pubblico, vivranno delle esperienze dirette e saranno autentiche, saranno emozionanti, saranno di riflessione, di valori, di tutto quello che vuoi, no? Ma saranno esperienze di esseri umani, per cui noi allo stesso modo dobbiamo trattarli, quindi allo stesso modo non giudicarli. Al tempo stesso, ragazzi, a me il giudizio viene, viene per le persone, viene per i personaggi, viene per tutto, viene verso me stesso. Come posso fare allora? Ma io penso che il giudizio sulla persona, proprio quello che ci raccomandiamo tanto di non dare, possa essere anche un grandissimo alleato. E' sufficiente pensare a quel giudizio che ci viene dentro, solo come a un primo passo verso la conoscenza autentica della persona. Quindi il giudizio sì, solo come punto di partenza. Perché sì? Ma perché è istintivo? Perché sarei insincero nel dire che non giudico una persona? Perché in realtà dentro di me quel giudizio ce l'ho. E' inutile stare lì, quindi ne tengo conto, quel personaggio mi sembra così. E adesso arriva la domanda chiave che fa fare il secondo passaggio, che è quando questo personaggio mi è sembrato come mi è sembrato. Quando hai avuto questa sensazione? Durante la scena, riprendi la scena e rileggi te stesso attraverso la scena. La rileggi e dici, ok, gli eventi li ho capiti, per questo gli eventi vanno fatti fuori prima. Perché adesso comincia il bello, adesso cominci tu. Adesso che sai che cosa succede, sei libero, comincia a capire cosa reagisce dentro di te. Cominci a dire, qua mi è sembrato un po' antipatico, un po' cattivo, ok. Segno con un evidenziatore giallo. Qui ho avuto questa sensazione. E vado in cerca. In tutta la scena sei una scena sola, in tutta la sceneggiatura sei tutta una sceneggiatura. Mi segno tutti i punti in cui questo personaggio mi ha dato. E magari scopro che questi personaggi, questi punti sono due o tre. E non 70 come pensavo. Questo mi aiuta e questo mi può salvare. Primo, perché non rischio di fare quello che facciamo quando giudichiamo qualcuno o quando giudichiamo un personaggio. Cioè, estendere la sensazione che abbiamo avuto a causa di un momento a tutto il resto del tempo, a tutto il resto dello spazio. A tutto il resto dell'esperienza che avremo con questa persona. Cioè, distendere l'effetto che ha fatto in noi un momento solo della nostra vita con lui o con lei, a tutto il futuro. Basta, questa persona è così. Questo è il giudizio. Il giudizio è una percezione specifica che io ho avuto in un momento specifico, scontornata di tutti i parametri di spazio-tempo, estesa indifferentemente a prima e dopo. Quello è il giudizio. Questo è un bel guaio, perché vuol dire che io non metto più in scena il personaggio, metto in scena la mia idea del personaggio. Questo giudizio può arrivare da diverse parti. Può arrivare da un impatto emotivo per la nostra storia specifica, per la nostra storia particolare. Può arrivare dalla location, perché quella location per noi ha un significato particolare. Può arrivare dalla nostra storia familiare. Può arrivare dalle nostre idee politiche, dalle nostre idee spirituali, appartenenze sessuali, di genere. Può arrivare da qualsiasi cosa. È come un potenziale inquinamento. Che se giochiamo bene, invece, non è un inquinamento. Perché noi portiamo noi stessi. È giusto che tu abbia le tue memorie. È giusto che tu abbia le tue idee. È giusto che tu abbia i tuoi sentimenti. Quello che è meno corretto è fare in modo che queste appartenenze, che sono solo tue, vadano a, in qualche modo, violentare questo personaggio. E quindi orientarlo verso quello che tu personalmente vuoi essere. Quindi, nel momento in cui vuoi essere, vuoi rappresentare, soprattutto, che è il personaggio. Nel momento in cui noi prendiamo in carico un personaggio, dobbiamo cercare, nei limiti del possibile, perché siamo esseri umani, non facciamo finta, di rimuovere il nostro narcisismo e di dire, non adesso mi faccio vedere, ma adesso vi faccio vedere. Vi faccio vedere questo personaggio che abita in me. Diventa un taxi. Anzi, attraverso questa domanda del quando ho avuto questa sensazione, io posso liberarmi di quella fase del giudizio, avendone però utilizzato la parte buona. Ho avvertito qualcosa. Perché la parte buona? Perché qui abbiamo parlato di come limitare il giudizio rispetto a tutto il tempo futuro, a tutto il tempo passato. Ma quella sensazione, magari da qualche indizio, era stata data. Perché il giudizio è scorretto darlo, ma non è detto che sia scorretto il giudizio. Allora, se io ho una sensazione rispetto a un personaggio e vado a isolare il punto, magari pesco qualcosa che non era così evidente, il famoso mondo del sottotesto. No? Che non si sa bene cosa sia, ma comunque in realtà si sa, ma ci vuole molto lavoro. C'è ciò che sta sotto il testo, ciò che non era spiegato apertamente, ciò che devo andare in fondo a guardare perché non è detto nelle parole, perché non è agito apparentemente nelle azioni, ma che è sotteso a tutto. È il clima, no? Sai quando sei in un ambiente e ti rendi conto che c'è qualcosa che non va nei tuoi confronti, ma non potresti dire niente di preciso. Che domanda farmi? Quando ho avuto questa sensazione? Perché se io vado a quel cerchiolino giallo che ho evidenziato, tu capisci che farmi una domanda su una battuta e andare in fondo come un trapano a indagare che cosa c'è in quella battuta che mi ha dato quella sensazione, che cosa stava agendo il personaggio in quel momento lì, è molto più efficace che non tutto il resto del testo, che non estenderla a tutto il resto. Allora, il punto è che se io uso questo giudizio nel senso buono, divento un detective. Fammi capire perché questo detective però indaga da due parti contemporaneamente, ma sono due parti opposte. Perché io indago sul personaggio, ma indagando sul personaggio sto indagando su di me. Perché quando tu hai una sensazione da parte di qualcuno che ti fa un effetto, fatti sempre la domanda. Mi dà una sensazione perché c'è qualcosa là sotto che io ho intravisto, e se vado a fondo magari lo trovo? Oppure perché quella persona con quel tipo di presenza tocca in me qualche cosa che già non sta tanto bene, che è ferito, appunto, e che si risente in qualche modo, no? Abbiamo detto più volte, se io sono sdraiato, nudo, su un sacco di sale grosso, se io sto bene sento solo il peso del sale, se io ho una ferita sento che il sale brucia. Il problema è che io dico a me stesso il sale è cattivo perché brucia. Invece arriverò a dire il sale mi ha informato di un problema che ho io. Sono due cose diverse. Ecco perché la recitazione realistica per me è l'avventura più bella del mondo e ogni volta che incontro un attore e che incontro un attore nuovo, mi piace ancora di più, che non conoscevo, so che mi tufferò in un'altra esperienza e in un altro oceano perché gli attori sono meravigliosi da questo punto di vista, hanno un approccio al personaggio che li coinvolge personalmente. Se non si fanno coinvolgere ci penso io, nel senso che per me nella recitazione realistica devi essere disposto a farti taxi per questi personaggi, ad accoglierli dentro di te, prestargli il tuo respiro, le tue emozioni, i tuoi pensieri, la tua vita. Per te è un affare. È un affare perché tu vivi mille vite che non potresti vivere. Il cambio con il farmi vedere per come sono non è neanche da mettere. Da quando tu superi questo livello e oltrepassi questa soglia del narcisismo e ti metti al servizio del personaggio, si apre un mondo. Un mondo in cui ho visto persone, attori, commuoversi durante la lettura delle scene per aver di colpo scoperto qualche cosa che riverberava dentro di loro e che questo personaggio gli stava dicendo. Sono convinto che le emozioni non possano essere la base su cui costruire il tuo rapporto col personaggio, ma quando tu hai fatto quest'analisi a partire da una tua emozione profonda che dice c'è qualcosa con questo personaggio, vado in fondo, vedo, capisco, quando esci vai via con qualcosa che hai capito di te e quando il personaggio ti ha fatto capire qualcosa di te diventate amici. Da quando diventate amici le emozioni arrivano a pioggia, ma non saranno quelle il drive del tuo lavoro, però ne avrai la vita piena. Recitare è citare ancora, citare ancora la vita di un altro, portarla dentro di sé, essere testimoni. Per me la cosa più alta a cui noi possiamo ambire è quella di farci traslocatori. Sapete i canyon dei traslochi che fanno, ecco, quelli pieni di roba. Noi che cosa facciamo in realtà ospitando il personaggio dentro di noi? Noi portiamo fatti a cui la gente non era testimone davanti a quella gente e portiamo quella gente nel cuore dei fatti. Stiamo traslocando continuamente, creando esperienze che non avrebbero potuto esistere se noi non avessimo fatto la spola. Quando ci è chiaro che il nostro lavoro è fare la spola, allora non ci fa problema come ci vedranno, dove arriva la luce, allora sei finalmente libero e non lo so quanto diventi famoso, ma ti diverti un sacco.